Ciao, io sono Marco Cavicchioli, e-commerce specialist e docente all'Accademia dell'e-commerce. Oggi ti voglio parlare di come funzionano i Bitcoin. Innanzitutto, cosa sono i Bitcoin? Il Bitcoin è una valuta, una moneta virtuale che esiste solo su internet. In poche parole è denaro contante, quindi ha la validità che ha il denaro che siamo abituati a usare tutti i giorni, come gli euro, come i dollari, però è una valuta che esiste solo su internet, non ci sono le versioni cartacea o in moneta dei Bitcoin, esiste solo e vale solo per le transazioni online. Ora, se andiamo ad esempio sul sito di Wikipedia, Wikipedia ci dice che il Bitcoin è stato creato nel 2009 da un anonimo conosciuto come Satoshi Nakamoto, probabilmente non era un'unica persona, era un gruppo di persone che sotto questo pseudonimo hanno creato questa moneta. L'idea che sta alla base è che questa moneta si basi su un software open source, cioè in poche parole un software che può essere scaricato da tutti e usato da tutti liberamente, senza alcun tipo di problema di limitazione. questo fa sì che il Bitcoin non abbia un'unità centrale, non c'è, come ad esempio per l'euro c'è la banca europea, la BCE, come per il dollaro c'è la banca, la Bank of America, non c'è una banca centrale, un centro che controlla il Bitcoin. i Bitcoin vengono distribuiti in automatico sul web da questa rete di software open source, per essere preciso è una rete di software P2P, quindi in cui ogni software, ogni installazione, ogni programma che viene installato si può scambiare i Bitcoin. Pertanto, da dove si parte per poter avere dei Bitcoin, per poter usare i Bitcoin, si parte, io vi consiglio di partire da questo sito, che è bitcoin.org, diciamo che è un po' il sito di riferimento italiano per quanto riguarda i Bitcoin. Su questo sito trovate un pochettino tutte le indicazioni, trovate anche delle spiegazioni, eccetera, se volete approfondire un po' di più. Se invece volete iniziare immediatamente, quindi per sapere, per capire immediatamente come funziona, fate così, scaricate e installatevi un portafoglio di Bitcoin, il termine tecnico è Bitcoin wallet, ok? Che cos'è wallet in italiano si traduce come portafoglio? Che cos'è un portafoglio di Bitcoin? Così come un portafoglio può contenere gli euro, un Bitcoin wallet può contenere dei Bitcoin. I Bitcoin per poterli avere bisogna metterli dentro un portafoglio. Ovviamente non stiamo parlando di un portafoglio reale, fisico, stiamo parlando di un portafoglio virtuale, cioè di un software. Esistono diversi software che fanno da portafoglio per i Bitcoin e ognuno di voi può avere tutti i portafogli di Bitcoin che vuole, può averne uno, cento, mille. Ci sono alcuni software che fanno da portafogli come Bitcoin Qt, ci sono anche alcune app che consentono di fare, di creare un portafoglio di Bitcoin sul proprio telefonino come Bitcoin wallet. Ci sono anche dei portafogli web, cioè dei siti web in cui voi potete aprire un portafoglio come questi che vi sto facendo vedere. Uno di questi, probabilmente uno dei più famosi è blockchain.info. Su blockchain.info voi potete semplicemente cliccare crea un nuovo portafoglio e vi create il vostro portafoglio di Bitcoin. Come vi dicevo prima, non c'è solo questa alternativa, ok? Questo serve per crearsi un portafoglio su un sito web, ma se non vi va di avere un portafoglio web, quindi che magari se qualcuno ha la password può entrare e magari, che ne so, rubarvi Bitcoin, ma volete un portafoglio sul vostro computer, allora scaricatevi uno di questi software o il Bitcoin wallet direttamente sul vostro smartphone. Come si usano i wallet? I wallet in realtà, cioè i portafogli di Bitcoin, servono semplicemente per farsi mandare dei Bitcoin o per inviare dei Bitcoin. Quindi quando vi installate un wallet di Bitcoin, un portafoglio, è completamente vuoto. È necessario per poter iniziare a trattare con il Bitcoin avere un portafoglio. Se non avete un wallet di Bitcoin non potete fare niente, però all'inizio è vuoto, come se andaste a comprare un portafoglio di pelle in un negozio, ovviamente ve lo danno vuoto, no? È la stessa cosa. Quindi dopo che avete installato il portafoglio dovete cercare di acquisire dei Bitcoin, di metterci dentro dei Bitcoin. Come fare? Dovete farveli mandare da qualcuno che ne ha. Cioè non c'è un sistema per creare Bitcoin sul proprio wallet. Diciamo, un sistema magari ci sarebbe anche, ma è un po' più sofisticato. Magari ne parleremo poi una prossima volta perché è una cosa molto complicata. All'inizio diciamo, voi non avete nessun Bitcoin all'interno del vostro wallet, dovete farveli mandare. Il bello del Bitcoin è proprio questo, che vi potete far inviare dei Bitcoin, cioè dei soldi, del denaro. E potete inviare dei Bitcoin liberamente in tutto il mondo, in tempo reale, cioè immediatamente e senza nessun costo. A differenza che ne so dei bonifici bancari oppure di Paypal, tutti strumenti eccellenti ma che hanno dei costi. Cioè quando voi fate un bonifico spendete i soldi del bonifico. Quando voi ricevete o inviate dei soldi con Paypal, Paypal si trattiene una percentuale. La prima cosa bella del Bitcoin è che sugli scambi di Bitcoin, da un wallet ad un altro, non c'è nessun costo, nessuna commissione, nessuna percentuale. Il discorso cambia leggermente se voi utilizzate delle piattaforme per lo scambio di Bitcoin. In quel caso non ne parliamo, anche in questo caso non vorrei complicare troppo. Quindi se voi avete un wallet di Bitcoin e conoscete una persona che ha un altro wallet di Bitcoin, potete farvi inviare dei Bitcoin senza nessun costo. Ovviamente difficilmente le persone vi regaleranno i Bitcoin, ok? Perché sono ai denaro. È come chiedere a una persona di inviarvi dei Bitcoin e come chiedergli di inviarvi degli Euro. Probabilmente dovrete dargli degli Euro in cambio e riceverete dei Bitcoin. Se volete, se volete sapere qual è il valore dei Bitcoin, quindi quanti Bitcoin potete farvi mandare con un Euro, fate una cosa, andate su eBay, cercate Bitcoin, sappiate che su eBay ci sono delle persone che vendono Bitcoin. Quindi in poche parole voi potete sapere non solo chi è che vi può inviare i Bitcoin, cioè da chi potete comprare i Bitcoin, ma vedete anche quanto costano. Ad esempio questa persona qua vende 0,01 Bitcoin a 8 Euro. In poche parole in questo caso il valore del Bitcoin è stimato, è calcolato in 800 Euro. Un Bitcoin vale 800 Euro, ok? Secondo quello che vende questa persona. Sappiate che non c'è una quotazione ufficiale dei Bitcoin. La quotazione dei Bitcoin la fa il mercato, quindi se volete comprare Bitcoin la quotazione la fa chi vi vende i Bitcoin, mentre invece se volete inviare, vendere Bitcoin la quotazione la fa chi vuole comprarli. Ad esempio qua sotto c'è un'altra persona che vende non 0,01, ma 0,1 Bitcoin a 70 Euro. Quindi già solo su Bitcoin c'è uno che vende, scusate su Ebay, c'è uno che vende Bitcoin a 800 Euro a Bitcoin e uno che vende Bitcoin a 700 Euro a Bitcoin. Quindi già qua abbiamo una prima differenza. Si capisce bene che la circolazione del Bitcoin è talmente libera che chiunque può fare il prezzo che vuole. Non c'è un reale prezzo di riferimento. Ci sono varie piattaforme che consentono di verificare qual è il prezzo medio online, ok? Ne trovate, basta cercare quotazioni Bitcoin su Google, però in realtà il prezzo del Bitcoin lo fa il mercato e varia continuamente, non solo giorno dopo giorno, ma ora dopo ora, minuto dopo minuto. Quindi torniamo a noi, vi dicevo come funzionano i Bitcoin? Funzionano a che voi dovete avere un wallet e farvi inviare dei Bitcoin. Ad esempio potreste farveli inviare come forma di pagamento, che ne so, per la vendita di un servizio, di un prodotto, oppure semplicemente in cambio di Euro. Quindi come succede su Ebay, voi a quelle persone lì che su Ebay vendono i Bitcoin inviate gli Euro e loro vi inviano i Bitcoin. Come si inviano e come si ricevono Bitcoin? Sappiate che ogni wallet, ogni portafoglio ha un indirizzo, l'indirizzo è una cosa, l'indirizzo è una parola chiave composta da, se non sbaglio, 24 caratteri, molto molto grande, molto lunga, fatta tutta con lettere maiuscole, minuscoli, numeri, insomma, quando installate il vostro wallet ci sarà scritto qual è la parola chiave del vostro wallet. Tecnicamente si chiama indirizzo. Quindi ogni wallet, quindi compreso anche il vostro, ha un indirizzo che è una parola chiave molto lunga, fatta di tanti caratteri. Per poter farvi inviare i Bitcoin, voi dovete dire alla persona che vi deve inviare qual è l'indirizzo del vostro wallet. Stessa cosa se voi volete inviare dei Bitcoin a qualcun altro, ad esempio se voi volete pagare qualche cosa in Bitcoin, ad esempio sul mio sito c'è scritto che io accetto Bitcoin come forma di pagamento per i miei servizi, dicevo se voi volete pagare in Bitcoin qualcuno dovete farvi inviare il suo indirizzo del wallet. Quindi in poche parole come funziona il Bitcoin? Voi dovete avere un wallet con un vostro indirizzo, se volete farvi mandare dei Bitcoin allora date il vostro indirizzo alla persona che deve inviarvi, cioè gli dite mandami i Bitcoin al mio indirizzo, all'indirizzo del mio wallet. Se invece voi volete inviare Bitcoin, vi fate mandare l'indirizzo della persona, l'indirizzo del wallet della persona e dal vostro portafoglio fate un pagamento, un trasferimento di Bitcoin a quell'altra persona, ovvero all'indirizzo del wallet di quell'altra persona. Una cosa importantissima dei Bitcoin è che i wallet sono, si dice, al portatore, sono anonimi. Cioè quando avvengono delle transazioni di Bitcoin, pagamenti, incassi, quello che volete, non c'è scritto da nessuna parte chi è il mittente, cioè chi sta facendo il pagamento e chi è il ricevente, cioè chi sta incassando. Si sa solo qual è l'indirizzo del wallet, che è questa parola chiave assolutamente incomprensibile. Pertanto i Bitcoin sono una forma di pagamento totalmente anonima. Poi in realtà, sapete, ci sono dei sistemi per cercare di capire a quale persona corrisponde un determinato indirizzo di un wallet, però come vi dicevo prima, dato che ognuno può avere tutti i wallet che vuole, se vuole proprio fare tutte le transazioni in anonimato, basta che ogni volta che fa una transazione la faccio con un wallet diverso ed è praticamente impossibile tracciarlo. Quindi il secondo vantaggio del wallet, scusate, del Bitcoin, è proprio che è una forma di pagamento completamente anonima. È molto, molto simile al contante, ok? Anche il contante è al portatore, cioè se una banconota da 50 euro ce l'ho io, allora sono miei. Se quella banconota ce l'ha qualcun altro, allora quei 50 euro sono di qualcun altro, ok? Il contante è al portatore. Stessa cosa per i wallet di Bitcoin, cioè se qualcuno accede al vostro wallet di Bitcoin, dato che i wallet sono anonimi esattamente come i Bitcoin, può disporre di quel wallet. Quindi la cosa importante, mi raccomando, proteggete bene i vostri wallet di Bitcoin proteggendone la password. Quando avete un wallet di Bitcoin avrete una password per potervi accedere, ok? Questa è una cosa fondamentale. Il terzo vantaggio del Bitcoin è che è in realtà è la ragione stessa per cui è nato, ovvero il fatto che non c'è un'unità centrale di controllo. Quindi non c'è qualcuno che decide quanti Bitcoin ci sono in giro, se ne vengono emessi di nuovi, qual è la potazione. È completamente libero. Non c'è un server centrale che può essere attaccato dagli hacker per rubare i Bitcoin. È tutto assolutamente libero e tutto assolutamente paritario, cioè peer to peer. Ogni wallet vale esattamente quanto l'altro e non c'è un wallet centrale di Bitcoin. Questo ha l'enorme vantaggio che il prezzo del Bitcoin lo fa solo il mercato, quindi non è possibile in alcun modo condizionare il prezzo del Bitcoin perché il prezzo del Bitcoin lo fa il mercato, come abbiamo visto prima addirittura su eBay c'erano due persone che lo vendevano a prezzo diverso, 700 euro, 800 euro. E soprattutto il Bitcoin praticamente non è attaccabile perché non c'è un server centrale, una banca centrale. Se qualche hacker volesse fare un attacco, diciamo così, potrebbe al massimo attaccare qualche wallet. Che ne so, può attaccare il wallet di qualche persona piuttosto che di un'altra, però magari di wallet al mondo ce ne sono milioni o miliardi, quindi è impossibile che venga hackerato il Bitcoin. Fate solo attenzione perché il vostro wallet potrebbe essere hackerato se voi non avete, non l'avete ben protetto. Quindi se avete un wallet Bitcoin potete ricevere o inviare denaro. Sappiate solo che non esistono ancora al mondo molti esercizi commerciali, molti negozi, molti e-commerce che accettano Bitcoin. Quindi per ora, prima di usarli, informatevi bene se li potete usare oppure no. Per qualsiasi altro dubbio o domande, visitate il mio sito e scrivetemi e mandate un'e-mail, tant'io rispondo sempre a tutti. Ciao!